Parliamo di prezzi, come dovete stabilire i prezzi dei vostri servizi, il prezzo è una strategia. Cosa succede oggi nel mercato dell'edilizia, dell'architettura, dei servizi tecnici e del design? Quello che succede, parlando con degli studi, la maggior parte di loro, quando gli chiedo per esempio quant'è che ti fai pagare per i tuoi servizi, loro mi dicono, per esempio una cita, 1200 euro. Ottimo, perché 1200 euro? Ok, iniziano le prime crepe, ma perché sai, c'è un geometra nella mia città che conosco che la fa 800 e poi ho visto che c'è qualcuno che le fa 1400, 1500, allora io dico, sono intelligente e le faccio 1200, cioè né troppo poco né troppo alto, mi metto diciamo in una via di mezzo. La verità, ok, è che questo è il modo più sbagliato per prezzare i vostri servizi.